C'è ancora tempo per acquistare i biglietti per lo spettacolo di venerdì 26 aprile alle 21 a Lyric. Alidangelo è il nome del musical che per la regia di Andrea Fiorentini, Valentina Notari e Lorenzo Evangelisti ripercorre tutte le fasi dell'incredibile vita del Beato Angelo, patrono della città di Gualdotadino.